Lavoro, arti, via libera al bilancio preventivo 2023, il conto dell'agenzia regionale per l'impiego, ammonta 82 milioni. Alloggi ERP, sostegno all'affitto, morosità incolpevole e ristrutturazioni, si unanime alla mozione presentata da Vincenzo Ceccarelli sull'emergenza abitativa. Si chiude in pareggio il bilancio di previsione 2023 di Arti, l'agenzia toscana per l'impiego, con un valore della produzione pare 84 milioni e 201 mila euro, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la proposta di deliberazione, con la quale esprime il parere favorevole al bilancio con 19 voti favorevoli e 7 voti contrari. È stata la Presidente della Commissione Sviluppo Economico e l'area Bugetti a illustrare in aula le caratteristiche del bilancio di Arti. Un bilancio che cresce di circa il 19% è una grande attività, quindi al di là dei numeri di un bilancio in pareggio. Abbiamo segnalato, la stessa dottoressa Cannoni ci ha raccontato quello che è il lavoro che stiamo facendo, che la regione toscana sta facendo e Arti in particolare in questi primi mesi. Inizia una fase nuova, una fase importante per il lavoro e per la formazione del lavoro, perché grazie alla collaborazione con il Ministero del Lavoro e con Ampal, ma anche alle risorse che arriveranno nel Fondo Sociale Europeo, noi dovremmo avere attenzione e cura sui territori per incrociare la domanda e l'offerta. Il mercato del lavoro sta cambiando e bisogna essere capaci di incrociare le esigenze delle imprese e delle aziende con le esigenze dei lavoratori. Quindi una grande attenzione anche alla concertazione con le amministrazioni comunali, con le associazioni di categoria, con le associazioni sindacali. È un momento importante, quindi anche sui vari territori sono stati realizzati dei protocolli nelle varie province che mettano insieme tutti questi soggetti affinché si possa davvero calibrare sulle esigenze di ciascun territorio, che è sicuramente diverso rispetto alle varie province della Toscana, e quindi poter dare una risposta alle esigenze del lavoro, ma soprattutto creare corsi di formazione che siano aderenti il più possibile a quelle che sono le necessità dei lavoratori, ma anche delle imprese artigiano e imprenditoriali. L'idea è quella della prossimità, e quindi quello di essere collegati davvero ai territori. Aprire uno sportello vuol dire avere persone che prendono in cura e che si fanno carico anche delle esigenze di chi va a fare i colloqui, ma soprattutto che parlano anche con le imprese affinché, capendo bene quelle che sono le esigenze rispetto a Prato è diversa da Livorno, rispetto a Grosseto, rispetto a Massa, e quindi cambiano anche le necessità e le richieste delle persone oltre che delle imprese. Quindi avere un ufficio vuol dire avere quel servizio di necessità, di prossimità scusate, di necessità che è vicino e che riesce a farti avere le politiche più mirate possibili. Voto positivo da parte di Italia Viva, un'agenzia che cerca ovviamente di lavorare rispetto all'impiego ovviamente del personale, la ricerca dell'occupazione, della prima occupazione, il ricollocamento delle persone, il tentativo ovviamente di migliorare la qualità della vita della persona e trova la parte nostra massimo sostegno. È la logica del lavoro che deve ovviamente nobilitare l'uomo e non quella dei sussidi, è il motivo per il quale noi abbiamo sempre e convintamente investito sulle politiche di Arti, che sono delle politiche di carattere regionale, che però tengono conto anche delle impostazioni di carattere nazionale. Sicuramente il Arti è oggi un'agenzia regionale chiave, se non altro perché sono state investite sulle politiche sociali del lavoro tantissime risorse, si parla di 200 milioni da ripartire a livello regionale a partire dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Naturalmente tutto questo impone un monitoraggio attento rispetto a quello che è un costo, soprattutto che è legato all'aumento del personale, si parla in Toscana di circa 1.058 unità che verranno assunte nell'ambito del 2023. Ora, noi non possiamo pensare che il lavoro lo trova chi viene assunto in Arti, perché poi questo diventa il paradosso e questo ulteriore paradosso può essere anche quello per cui oggi di fronte a una necessità di snellire soprattutto il rapporto tra domande e offerte, di trovare un raccordo molto spesso tra ciò che chiedono le imprese e anche un lavoro qualificato, perché non dimentichiamoci che in Toscana c'è anche l'emergenza del cosiddetto lavoro povero, ecco tutti questi dati messi insieme ci impongono un monitoraggio costante e attento su come vengono spese le risorse a partire dalla formazione e dalle politiche attive e soprattutto diciamo oggi anche alla luce della riforma sacrosanta del dedo cittadinanza si porrà davvero il tema di formare ancora meglio quei profili professionali che appunto oggi vengono richiesti dalle imprese, per non parlare poi di tutto quello che è l'ambito dell'occupazione giovanile del quale poco si accenna. Molto generica anche la parte sui programmi, vengono rifinanziati alcuni programmi ad esempio che riguardano laboratori che sono stati colpiti da crisi aziendali, però è un settore che naturalmente meriterebbe una maggiore attenzione e ripeto anche un maggior monitoraggio da parte del Consiglio regionale. Quindi il nostro giudizio è un giudizio ad oggi negativo soprattutto perché dovremo vedere da qui al prossimo futuro come le risorse verranno effettivamente spese attraverso un'attività intensa di monitoraggio. L'agenzia fa sicuramente un grande lavoro per tutto quello che riguarda le pratiche amministrative che spesso i disoccupati o coloro che hanno lavori stagionali devono fare, si pensi al grande lavoro che sostengono ogni settembre quando tutti i lavoratori stagionali vanno a farne la richiesta e spesso si trovano appunto tutti questi dipendenti a trovarsi ad affrontare una grande quantità di persone con difficoltà anche logistiche per riuscire a soddisfare tutti i bisogni che ci sono. Da un certo punto di vista l'esigenza maggiore è quello di colmare il mismatch cioè l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e ancora su questo si fatica perché il problema è strutturale non attribuibile ad arti. Se si pensa che in altri stati come l'Olanda la Germania si hanno quattro volte tanto i dipendenti per le agenzie dell'impiego si capisce anche il valore che viene dato a questo tentativo di incontrare la domanda e l'offerta e in questo la regione a parte appunto mettere a disposizione del personale altro non fa perché c'è necessità di un dialogo costante con le imprese, cercare di rifare più formazione, formazione che venga ben individuata su quelle che sono le esigenze e la regione toscana da questo punto di vista non è tra le più virtuose. Garantire rifinanziamento anche per il 2023 delle principali misure di sostegno all'affitto per i nuclei familiari indigenti a partire dal Fondo Sociale per l'Affitto e dal Fondo Morosità Incolpevole essendosi dimostrati nel corso degli anni strumenti efficaci per rispondere al disagio abitativo di una fetta rilevante di popolazione. Questo uno degli impegni chiesti alla Giunta regionale presso il Governo nazionale nella mozione presentata dal gruppo del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, sulla necessità di prevedere adeguate risorse nazionali per il sostegno all'affitto, all'amorosità incolpevoli e alle ristrutturazioni degli alloggi ERP. Una mozione che abbiamo ritenuto doverosa perché in un momento di particolare difficoltà dopo la pandemia con l'inflazione a due cifre, con il caro energia che sta minando il bilancio delle famiglie, il Governo nazionale non ha messo nessuna risorsa per quanto riguarda uno strumento fondamentale per intervenire e attenuare il disagio delle famiglie in difficoltà, vale a dire il fondo per il contributo affitti che riguarda circa il 20% delle famiglie toscane, il fondo per quanto riguarda l'amorosità incolpevoli, risorse per intervenire nella ristrutturazione degli edifici ERP che si liberano e vanno risistemati prima di essere riattribuiti. Sinceramente non è stato sufficiente il correre ai ripari da parte del Governo con il reddito alimentare, con il bonus bollette che per carità vanno bene ma le misure che noi rivendichiamo sono misure essenziali, tant'è vero che anche le opposizioni poi hanno approvato questa nostra mozione che contiene una richiesta forte nei confronti del Governo di ripristinare risorse ai fini che ho appena enunciato. Abbiamo anche richiesto un impegno alla Giunta regionale a valutare nel prossimo bilancio, così come era avvenuto in passato, di mettere risorse dedicate integrative del nostro bilancio per intervenire proprio nella ristrutturazione degli alloggi di risulta. Sul tema del contributo affitti è un tema di grande attualità e il Partito Democratico, così come sta accadendo in tutti i consigli comunali, in tutti i consigli regionali, ha presentato la mozione Cina per chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il contributo affitti e noi li abbiamo sfidati su questo, li abbiamo sfidati chiedendo quali fossero le loro intenzioni, se fossero quelle di sostenere la campagna elettorale che Ellis Line sta facendo in tutta Italia sul contributo affitti o se seriamente volevano fare una richiesta al Governo nazionale di finanziare questo fondo. Abbiamo presentato degli emendamenti, in sostanza abbiamo chiesto uno di riconoscere quello che il Governo ha fatto perché è vero che il tema del contributo affitti è importante, va rifinanziato e Fratelli d'Italia lo sta chiedendo attraverso i propri sindaci, uno su tutti Alessandro Tomasi a Pistoia, di rifinanziare il contributo affitti ma va riconosciuto, se non si vuole fare campagna elettorale, che il Governo ha fatto comunque dei provvedimenti per la lotta alla povertà, la spesa alimentare, il bonus bollette, quindi di riconoscere quello da una parte e dall'altra siccome poi il Partito Democratico ormai li conosciamo, come si dice quando gli dai un dito prendono il braccio e ovviamente nella richiesta di rifinanziare il contributo affitto hanno pensato bene di chiedere al Governo nazionale anche che si accollasse la ristrutturazione di tutto il patrimonio dell'inizia residenziale pubblico soscano che in 30 anni di incurie e di cattive manutenzioni da parte dei loro sindaci oggi va recuperato perché molte di quelle case sono sfitte. Noi abbiamo chiesto giustamente che il Governo finanziasse anche questo tipo di intervento ma che su questo tipo di intervento comparticipasse anche la Regione Toscana perché la Regione Toscana che è la proprietaria di quel bene che è rappresentato alle case popolari di tutta la Regione non può pensare che per colpa della loro cattiva manutenzione oggi le case popolari non possono essere assegnate, arriva il Governo Meloni e finanzia tutto. Il Governo Meloni spero riesca a finanziare una parte di questi interventi ma una parte li deve finanziare anche il Partito Democratico, la Regione Toscana e la fattispecie. Questo è andato a buon fine, gli emendamenti sono stati accettati da parte del Partito Democratico e per fortuna l'Aula ha votato in maniera unanime questa richiesta perché tutte le forze politiche oggi concordano nel chiedere al Governo nazionale di rifinanziare il fondo per il contributo affitti. Intanto noi ci siamo mossi soprattutto con i nostri parlamentari per quanto riguarda l'amorosità, l'affitto, il sostegno assolutamente sì, è un motivo nostro di dare il contributo ai nostri cittadini che purtroppo in questo momento il fondo non è stato sovvenzionato però il fondo ancora esiste e già questo è una cosa che ci lascia ben sperare e speriamo appunto che si arrivi presto a una soluzione. Per quanto riguarda invece la ristrutturazione delle case popolari, intanto dobbiamo partire dal concetto che attraverso il PNRR sono arrivati 93 milioni soltanto per la Toscana, le quali 14 sono stati addirittura spesi per un solo nucleo che riguarda quello a Firenze in via dell'Accademia del Cimento con una spesa per ogni singolo appartamento di 110 mila euro. Ci sembra che sia una spesa decisamente molto elevata anche se si tratta di una ristrutturazione anche antisismica però con 110 mila euro sicuramente si potevano fare anche appartamenti nuovi ma al di là di questo c'è, abbiamo visto, abbiamo letto con piacere la notizia che il sindaco Nardella a Firenze ha investito 8 milioni per ristrutturare 500 appartamenti, dividendo 8 milioni per 500 appartamenti sono 16 mila euro, non credo e non so quale tipo di intervento si possa fare con 16 mila euro in un appartamento se vanno ristrutturati. Per cui mi sembra che sia anche questa una notizia piuttosto più propagandistica che concreta e non ultimo mi sono permesso tempo addietro proprio in virtù delle difficoltà del dopo Covid e di tutto quello che si sta passando adesso personalmente di aver fatto una richiesta ai nostri parlamentari da portare ai ministri di competenza l'istituzione di un miliardo da destinare non alla ristrutturazione ma alla realizzazione di nuove casse popolari. Credo che potrebbe essere decisamente una risposta importante perché in questo momento le difficoltà ci sono, tante famiglie stanno facendo la richiesta e soltanto annualmente il 3-4% di queste richieste vengono esaudite. Per cui credo che dobbiamo assolutamente intervenire in questo modo. Spero che il governo anche in questa circostanza ci possa dare un aiuto. Grazie a tutti.